Matteo Salvini, i militanti hanno scelto lei come nuovo segretario federale della Lega Nord, come si sente? Con una responsabilità enorme sulle spalle, però siamo a disposizione, militante fra militanti, per ascoltare, per decidere, per correre. Io ho incontrato una marea di gente che ha voglia di fare, ha voglia di lottare, ha voglia di arrivare al risultato concreto finalmente dopo vent'anni di battaglie, di fatica e di sofferenze. Ci proviamo, ci mettiamo a disposizione per un tratto di strada, non c'è niente da inventare, il progetto c'è, l'idea c'è, gli uomini ci sono, le donne anche. Proveremo a essere un po' più cattivi e un po' più concreti. Ecco, lei infatti ha tracciato sin da subito le linee guida del suo programma, a partire dal lavoro, occupazione e Europa. Sul fronte del lavoro è già promosso dei provvedimenti, per esempio per l'esiodati, quale sarà il primo che farà da subito? Sul fronte del lavoro non c'è lavoro se non ci riprendiamo il controllo e la sovranità sul futuro, sull'economia, sull'agricoltura, sul commercio, sulla pesca, su quello che dobbiamo fare e vogliamo fare. Non ci può essere Bruxelles che ci spiega qual è il tetto di deficit, quanto devono spendere i comuni, come si fa il formaggio, quando si pesca e dove si pesca. Quindi ribaltare l'Unione Sovietica Europea, riprenderci il controllo della nostra economia, dei nostri stipendi, del nostro debito pubblico e della nostra moneta è la priorità. Con questo euro fra le scatole non c'è futuro, non c'è sviluppo. A livello interno stiamo mettendo le toppe laddove è possibile. L'esiodo Lombardia aiuta 600 esodati ad arrivare alla pensione, aiuta i genitori separati, il Veneto tiene gli ospedali aperti di notte per fare gli esami in maniera più svelta, il Piemonte aiuta gli artigiani, però non possiamo arrivare a mettere toppe ovunque, quindi o si ribalta il concetto di Stato sia in Italia che a Bruxelles oppure non c'è sviluppo possibile. Solo Letta non se ne è accorto, perché Letta continua a dire che chi mette in discussione questa Europa, questo euro è un melagramma, è un disfattista, è miope. Io penso che l'unico miope sia rimasto lui, perché tutti ormai si stanno rendendo conto che questa Europa e questo euro, così come sono, non vanno bene, sono la morte. Ecco, lei ha detto che bisogna sgretolare questo euro, rifondare questa Europa, lei conosce bene i meccanismi europei perché è stato per tanti anni e lo è ancora eurodeputato, come si può fare e con chi? Alleandosi con chi ci sta per ridiscutere i trattati, da Maastricht a Schengen a Dublino e per ricostruire un'economia che parte dal lavoro vero, non dallo spread, non dai dati finanziari, non dalle necessità delle banche. Quindi in un'altra Europa è possibile, assolutamente, lo pensiamo noi, lo pensano i francesi, lo pensano perfino i tedeschi ultimamente. Quindi alle elezioni europee di maggio se ci sarà un fronte, l'unico fronte veramente europeista è quello che vuole distruggere Bruxelles, tutta questa costruzione che è un euro truffa. Gli altri sono europirla, noi invece vogliamo l'Europa, ma questa non è Europa, questa è una camicia di forza, questa è una gabbia di matti. Quindi si può fare, sì, è difficile, sì, è rischioso, sì, perché chi ha provato a combattere questa Europa, pensiamo ad Haider, piuttosto che a Pim Fortain, a volte ci ha lasciato le penne, però siamo qua per combattere, non per vivacchiare. Quindi la battaglia la faremo fino in fondo a Bruxelles, sul fronte interno, uno Stato che arriva a dicembre a non far sapere ai sindaci, ai cittadini che cosa devo pagare sulla casa e sui rifiuti, è uno Stato che è fallito. Come intende intensificare la collaborazione con gli amministratori locali e con i governatori? Spingendo sull'acceleratore a partire dal Veneto, dove 150 comuni hanno già approvato un referendum per l'indipendenza e quindi l'obiettivo è arrivare in regione ad approvare il prima possibile una legge che permetta ai Veneti di esprimersi. E se i Veneti diranno a casa nostra comandiamo noi, quindi né Bruxelles né Roma e poi a Valanga, penso che da nord a sud sarà un processo che nessuno riuscirà a fermare. I nostri sindaci accompagnandoli, ormai in tantissimi vorrebbero dimettersi, perché non sono in grado di decidere nulla, non sono padroni dei loro bilanci, dei loro territori, della sicurezza. Almeno con Maroni avevano avuto le deleghe per occuparsi di sicurezza, il governo Monti li ha pure privati del potere di ordinanza, quindi uno dice sto a fare il sindaco per che cosa? Sto a fare il passacarte, quindi io faccio il sindaco oppure mi dimetto, non escludo nulla, anche perché questa legge di stabilità toglie ulteriori fondi ai sindaci. Le nostre battaglie comunque saranno evidenti, nell'anno nuovo ad esempio il referendum per abolire i prefetti, che è veramente un ente inutile e costoso, lo faremo e voglio vedere se la gente verrà o non verrà a firmare. Lei nelle settimane scorse ha incontrato tanti militanti dal Friuli Venezia Giulia fino alla Toscana, ogni nazione ha una propria sensibilità, come intende dar voce ad ognuna di queste e tenerle insieme tutte? La legge è bella perché mette insieme sensibilità, storie, culture, lingue diverse, sono stato in Toscana, sono stato a Prato, dove i leghisti di Prato hanno veramente le palle, dove hanno aperto un fondo per aiutare i commercianti e i disoccupati di Prato italiani, e lì c'è un parroco che si è imbizzarrito dicendo che siamo come i nazisti e faremo la fine di Hitler, quindi questa è la lega che mi piace, uno sta lì a fare le mezze misure, a mediare, prima la nostra gente, a Prato, a Gorizia, a Cuneo, tutelando il territorio, quindi con lo stop ai grandi centri commerciali, con l'aiuto di tutto quello che è piccolo, perché piccolo è bello, ci hanno detto che piccolo è brutto, per competere bisogna essere grandi, bisogna andare in Cina, bisogna andare in Romania, abbiamo visto alla fine che andando in Cina e in Romania o dietro al mercato stiamo morendo di libero mercato, che va regolato, perché il libero mercato senza regole è un disastro. In pochi giorni è cambiato il volto politico della politica italiana, soprattutto dal punto di vista anagrafico, questo cosa vuol dire, secondo lei? Ma no, io non giudico in base alla caratteria di identità, ci sono degli ottantenni molto più svegli di alcuni ventenni rimbambiti, Bernardo Caprotti, il patron di S. Lunga, ha 88 anni, ma è un genio più di alcuni diciottenni, è vero che Napolitano ha 88 anni e non è esattamente all'altezza di Caprotti, anche se è l'uomo che sta condizionando la politica in Italia negli ultimi mesi, non ne faccio una questione anagrafica, nel senso che Renzi è bello, simpatico, elegante, abbronzato, giovincello alla Fonsi, ma io non ho ancora capito cosa voglia fare, quale sia il progetto di Renzi sull'Europa, sull'Euro, sulla Bosse Fini, sulla riforma Fornero, sull'Irap, sugli esodati, sulla famiglia, sulla famiglia la Lega deve avere una voce unica, la famiglia è quella che vede un uomo e una donna che si mettono insieme e fanno i figli o li adottano, la famiglia non è con due papà o due mamme o il genitore uno o il genitore due, quindi al di là del giovanilismo di Renzi o di Alfano vorrei capire cosa vogliono fare. Ecco però forse la gente in questo momento sta ponendo più fiducia nei giovani, le cose ne pensano soprattutto? Deve cambiare anche la comunicazione della politica, il modo di fare politica? I mass media indirizzano in base alle esigenze, ci hanno convinto che gli sprechi sono i comuni e le province, e quindi bisogna cancellare i piccoli comuni, bisogna cancellare le province, mettere il primo spreco in Italia è lo Stato, i forconi oggi in piazza, i camionisti, gli imprenditori, gli artigiani, gli agricoltori, il loro nemico è lo Stato ladro, non è il consigliere comunale di Ciamusco Lombardone o il consigliere della provincia di Treviso, che anzi sono eletti, si fanno un mazzo così e producono. Quindi giovane a tutti i costi no, non mi interessa, mi interessa giovane che fa che cosa, quindi Renzi mi sembra che abbia preso, con cui per carità mi confronterò, sia con lui che con Alfano, sui temi concreti, sui progetti, sul futuro, quindi non mi permetto di pregiudicare il lavoro altrui, anche perché come leghista soffro di pregiudizi da vent'anni, quindi aspetto al varco dei fatti concreti qualcuno che fino ad oggi ha parlato molto bene, però quando dai ragione a tutto e al contrario di tutto, prima o poi devi scegliere qualcosa, quindi Renzi sulle privatizzazioni dovrà dire sì o no, sull'euro dovrà dire sì o no, sul controllo dell'immigrazione dovrà dire sì o no, sulla riduzione dell'IRAP dovrà dire sì o no, sull'IMU, Renzi è sindaco peraltro, teoricamente sarebbe sindaco e quindi la sua città mi sembra trascurata purtroppo per i fiorentini, cosa pensa Renzi, leader del PD, del massacro delle finanze dei comuni a parte del governo? Adesso vediamo, adesso dovrà scoprire le carte. Senta, in conclusione, domenica a Torino i delegati ufficializzeranno la sua elezione, c'è qualcosa che ci può anticipare del suo messaggio, qualcosa che ci può dire? No. Che intende dire? No. Lo dico domenica. Invece c'è qualcuno a cui vorrebbe dire grazie? No, no, voglio dire grazie in primis a Umberto Bossi perché senza di lui non saremmo qua a parlare su Telepadania, ai militanti che sono venuti sfidando il freddo, la neve in alcuni casi e le gufate e quindi in più di 10.000 sono venuti a scegliere, anche a quelli che non sono venuti che magari verranno la prossima volta e poi la mia preoccupazione è al di là di far ripartire la macchina lega, quindi scaldare le batterie la macchina lega e parlare al resto del mondo, quindi a tutti quelli che sono in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia e non ci votano o ci hanno votato e hanno smesso di votarci e quindi se io sono convinto che una lega concreta, entusiasta, battagliera, con le palle, che si mette in gioco e disubbidisce a se serve, non arriva al 4,2%, deve arrivare al 5, al 6, al 7, all'8%. Quindi una lega che si rivolge a tutti insomma. Assolutamente, sì, senza steccati, Forcone in mano. A proposito di Forcone, un'ultima domanda su serio, ecco cosa ne pensa di questa protesta che sta montando? Che al di là delle infiltrazioni, dei soliti balordi a volto coperto, i no global, i centri sociali, gente varia ed eventuale che sfrutta le proteste altrui, però quando in piazza ci sono gli agricoltori, i commercianti, i camionisti, i taxisti, gli artigiani incazzati, io sono in piazza con loro, preferisco bloccare il traffico per qualche ora per salvare il futuro e il lavoro, piuttosto che star lì in punta di penna, dire beh no, non si fa, quindi fatte salve le infiltrazioni delinquenziali, che sono quelle che lanciano Molotov, perché non è con le Molotov che si ottiene qualcosa, detto questo sto con chi protesta sicuramente.